Per curare normalmente tumori si esternizza l'intestino o la vescica, quindi si crea un'apertura sull'addome e viene applicata una sacca di raccolta. Questo è un tipo di intervento che permette di salvarsi da un tumore o altre gravi patologie a intestino o vescica, ma che contemporaneamente cambia la vita di una persona sia a livello fisico che mentale. Per questo nel 1992 è nata a VEIS l'associazione veneziana in continenti estomizzati. Interpreta quelle che sono le esigenze dei vari estomizzati, che soprattutto sono esigenze di reinserimento nella vita sociale, lavorativa. Si interessa poi delle esigenze per quanto riguarda la fornitura di prodotti per la stomia, cioè le sacche che sono un elemento essenziale per gli estomizzati. Quindi si interessa affinché agli estomizzati venga garantito tutto quello di cui hanno bisogno. Tutto fornito gratuitamente grazie ai volontari che raccolgono i fondi organizzando vari eventi, ma questa problematica non è ancora abbastanza conosciuta. Occorrono tante persone per darci una mano. Attualmente andiamo avanti soltanto con iniziative e con l'apporto di persone del Consiglio Direttivo, ma siamo veramente pochi. L'ulteriore appello poi riguarda il fatto di non essere considerati disabili. Non siamo considerati disabili, non possiamo parcheggiare nei parcheggi dedicati e solo il Comune di Venezia ci riconosce, e solo a livello di Comune di Venezia, quindi non nella provincia, per avere in quel momento in cui ho un disagio di poter abbandonare la macchina, mettermi in seduto da qualche parte, ricercare un bar, un bagno pubblico che mi dia la possibilità di capire com'è la situazione. Grazie. 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 Grazie.